Ben ritrovati o ben arrivati. Informo che per le vostre indagini personali è utile fare uso del ricco indice alfabetico che trovate dal sito web www.tinelli.eu dalla tendina in alto a destra del menu con molte altre voci. In questo video desidero pubblicare l'evento 2023 di sabato 29 aprile dove c'è stato il primo evento pubblico che nessuno aveva organizzato prima con basi scientifiche e non solo sulla terra piana. Il dottore Riammenta ha animato con le sue domande quelle del pubblico Giancarlo Infante fisico teorico, Dino Tinelli libero ricercatore e per la prima volta ripreso dal vivo finalmente Roberto Morini fisico nucleare e filosofo. Oltre ai video a disposizione solo per i partecipanti con questo desidero informare che sugli attestati che avete ritirato inquadrando il QR code uguale all'invito identificativo per l'ingresso potete leggere il vostro nome. Lo dico perché qualcuno non lo sapeva. Detto questo come dicevo attraverso indice alfabetico potete trovare un sacco di materiale per le vostre indagini. Molti di voi ricordano il video Cosmonauti la terra è piatta non siamo mai andati nello spazio dove il cosmonauta Igor Volk affermava che nessuno era mai andato nello spazio. Dovete sapere che Igor Volk è morto nel 2017 tre anni dopo l'intervista registrata nel 2014 mentre di Igor Volk come sempre non esiste la pagina in italiano di Wikipedia. Per chi non ha visto l'intervista cliccate sulla voce che trovate su indice alfabetico. Era stata fatta da Stajko Kerev e questa volta lo stesso Stajko Kerev è stato intervistato dallo youtuber Mark Skarabowski. Questi due signori sono ben visti nella popolazione bulgara. L'intervista è di soli otto giorni fa il che significa che è stata fatta dopo nove anni dalla prima intervista di Igor Volk. Vediamo solo una piccola parte che vi ho sottotitolato. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, perché è molto l'occhio, perché è molto l'occhio, ma perché è l'unità. C'è chi è? O, qual'è? 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 E s'entravo e vera. Ami, sai leafially, che... Ilon Musc non ha riusci a riusc creato il qu'è che troppo in cui escivano. Ma non ha riuscì ancora. Ma non c'è o che enter. La scritta che sia dire a che conspiretiche non hanno avuto il qu'è potuto, in quel punto è stato il tuo plan. Fai le per favore. Ma le per favore. cuschi na lunata. Aggiungo qualcosa che mi posso raccontare. Gli ho alcuni decetchi populari filmi, documentali, e sono assolutamente obiettivi, che nico non è arrivato da l'anno, americani sono perfetti in una istituzione di mese. A mi a fare documentali filmi e se tratta di potercivano nessun contesti, a te ne prezcazano nessun contesti, a znazzi, che non mi potercivano per così godi maggiap, per così per l'esituzione. mi hanno 50 anni, mi hanno 60 anni, i più di mali. 50 anni, e in un momento stai niente da portare che non siamo in un personale, ma non sono chiedi che mi sembra mi, mi sembra che soprattutto a me hanno pensato, ma mi sembra di che ho pensato, ma Miller, mi sembra alla me, ho pensato per me, e ho pensato a tutti e mi sembra, ma mi sembra, se ne fossi non, ho pensato e mi sembra, invece sono una cosa più altra e sono un'esitito che lo siano. Il rosnazita è chiuso che i te siano così, poi sapevano i rosnaziti, non mi sembrava. Chi è stato che sull'eczio luna di rosnazita? L'asitato che non è stato l'usone. su tutti i suoi Igor Volk Igor Volk resta in Bollegaria e è un pochino in Bollegaria un pochino dopo il mio resta in Bollegaria un pochino in quanto tempo e sono molto un pochino che è è è l'anno l'anno che si è un pochino l'anno in questo caso mi dice che che non siamo in cosmo non siamo in cosmo a luna è in cosmosa e solo questo riguarda questo domanda che ti pensi per tuo senso Marto è necessario che ti dice qualcosa di dire ma è necessario a più è necessario è necessario che non ci siamo stavati a luna e mi dice che che ci sono che a presto che a presto il primo è stato il cosmonautista l'azare è stato sono l'azare e il è stato l'azare che è stato conferma che il cosmonautista suvietico Igro Follco non stava scattando nessuno è mai stato su la luna nessuno è mai andato nello spazio ci hanno sempre mentito da lungo tempo che ci sono gli occhi che ci sono le persone che ci sono un po' Grazie.